Amore, sai che stavo pensando? Visto che domani è San Valentino Perché domani è San Valentino, tu ricordi? Ma che figura dentro tu ricordi? Vabbè, comunque ho già pensato a tutto io Allora, ho scelto il posto dove mi porterei a cena Perché io di certo caso ormai non ci sto C'è sempre stato quei ristoranti a menù fisso Dove spendi poco e mangi un sacco? Ecco, io lì non ci andrò mai Quindi ho prenotato un ristorante bellissimo in centro Con la terrazza panoramica Si vede tutta Roma Oh, Gianni Sperti diceva una serasina, una seranoa Ah beh, allora E infatti, poi ho pensato che domani esci prima dal lavoro No, non ti preoccupare, ho già parlato col capo e d'accordo Così possiamo andare a fare un piccio Finto che tanti salvi sono finiti Poi andiamo in una spazio, rilassiamo e poi dritti a cena Che dici, amore? Amore, tutto quello che vuoi Amore mio, grazie E' per il torciclo A San Valentino, fatti rapire Prende, 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 prende Eh, lo so Sì, non è 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 lo so Prende, prende Prende Non è lo so Prende, prende Dove portare? State zitta che se no ho curgato Amore Oh Sta zitta Che vuoi? Tu non provare a chiamare la polizia Facciamo sentire noi fare scatto Ma che va preso? Ho esagerato? Ma lo so! Leva sto coso che me fa male! Che segreto ti ha dato una cracca! Ero semplicemente entrato nel personaggio Nel personaggio arrivato libanese Casomai il dandy Mi piacerebbe E comunque non volevi dire a pittori perfetti e credibili Mi sono semplicemente attenuto al piano Ah a proposito Queste sono due Ah grazie E poi secondo me se entravamo dalla finestra facevamo più bella figura Ancora Abita a settimo piano abita Ma dovevamo affittare l'autobomba? Quella dei pompieri? Si E andavamo in giro purtutto alla città con l'auto dei pompieri Casirena spenta Vabbè basta L'importante è che ci abbia creduto Ci ha creduto? Quella sta ancora a piaglie Certo che ci ha creduto Siamo stati bravissimi no? Comunque come è uscito il polacco qua Era molto da Comunque anche tu quando tenevi l'arma Ma c'è l'interpretazione perfetta Ma perché il cazzotto che gli ha dato non sembrava vero? No era vero Ah io scusa Scusami Senti un po' Eh Quando è che ti dovremo liberare a te? Famo il 18 per prego Eh sì Oh sentite ma 12 casse di birra basteranno sì Non si era detto 13 Famo 20 Dai Ah Tu guarda che me tocca fa Ecco Oh regà Ma l'anno prossimo che si è avventato? Eh l'anno prossimo L'anno prossimo muori Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie per la visione!